In un'area del Pincio che a fatica è riuscita a contenere i tanti fanesi e i turisti presenti si è dato il via alla manifestazione più attesa dell'estate, la Fanum Fortune, Fanum dei Cesari. Alcune vestali sono scese in formazione dal bastione del Nuti portando il fuoco sacro degli dei. Ad attenderli ai piedi della scalinata il sindaco Massimo Seri nei panni di Cesare Augusto che ha impugnato la fiaccola e dato le fiamme al bracere. Il primo cittadino ha passato poi il fuoco al vice sindaco e assessore al turismo Stefano Marchegiani il quale l'ha distribuito agli organizzatori dell'evento, alle quattro fazioni, ai commercianti, alle associazioni e a un rappresentante del centro storico. I vari soggetti lo custodiranno simbolicamente nei vari punti della città. Siamo partiti alla grande, grande movimento nella città e penso che poi la conclusione straordinaria arriverà con la parata, la straordinaria parata e la corsa delle bighe di domenica. L'accensione del bracere è stata anticipata da un corteo partito da Piazza 20 Settembre che ha sfilato lungo corso Matteotti fino all'arco d'Augusto. Terminata la cerimonia di apertura, i vari protagonisti hanno raggiunto il tavolo dei relatori, dove il professor Luciano De Santis ha dato il via alla conferenza intitolata Miglio dopo miglio, quattro passi sulla via Framinia. Un vero e proprio viaggio da Fano a Roma, descritto con grande passione e coinvolgimento, con il supporto dei militari della colonia Iulia Fanestris che hanno impersonato le parole del relatore rendendo il momento ancora più interessante. Sì, si è dato il via ad un grande evento che ci preannuncia importante dal coinvolgimento che questa manifestazione ha dimostrato fino adesso. Tanti commercianti che hanno allestito la propria città, quindi hanno fatto un lavoro fantastico. Tante fazioni che ci sono unite per gareggiare, per fare delle dispute, bellissime in questa Fano dei Cesari e una Fano dei Cesari che parte con tanti gruppi che arriveranno da fuori, una città che ci prenderà stupenda per arrivare a quella che è la festa di Baccanalia e poi la parata storica e la corsa delle bighe. La serata, condotta dal presentatore ufficiale dell'evento, il giornalista fanese Massimo Foghetti, è terminata con un momento di pura dolcezza. Come ogni manifestazione che si rispetti non poteva mancare il taglio della torta, una piccola opera d'arte realizzata per l'occasione dal maestro pasticcere Stefano Ceresani. Gli ingredienti per questa inaugurazione, per questa giornata fantastica per quanto riguarda la Fano dei Cesari, può essere soltanto quei dolci che facevano i romani, i romani facevano i dolci basati in miele e mandorle e io ho rifatto una torta che sostanzialmente ricalca i dolci antichi, i dolci di romani che poi sono le mandorle e il miele. Non solo, perché vediamo anche dei cavalli, una biga? La biga con il cavaliere e i cavalli che corrono in ricorrenza per questa fantastica giornata.